Ecco a voi Piero Longhi, campione italiano di rally, una dichiarazione su Colin McScarp. Come Colin McScarp non c'è nessuno. Grazie. Ecco a voi, qui abbiamo Paolo Andreucci, campione italiano rally. Due parole su Colin, grazie. Colin McScarp è il meglio di tutti. Ecco a voi Luca Rossetti. Ecco, Colin McScarp non c'è nessuno. Grazie Luca, ciao. Ecco qua abbiamo Renato Travaglia, due parole su Colin McScarp, grazie. Direi che è inevitabile, Colin McScarp, inevitabile. Grazie, ciao. Ecco a voi, qui abbiamo Andrea Navarra, pilota, campione rally italiano. Due parole su Colin. Direi che è come Colin McScarp, non c'è nessuno. Grazie Andrea. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.